La torna nuovamente Mare Nord-Est, insomma un appuntamento che ormai in un modo o nell'altro un po' tutti conoscono, sei un po' come la RAI. Sì, è sesta edizione con grande orgoglio, con grande fatica, ma sicuramente è un'edizione ricca ancora più degli anni scorsi di contenuti. Quest'anno bellissimo il lavoro fatto soprattutto con le scuole, con il concorso che ha avuto grandissima risposta. Apriamo il mondo dell'arte legato al mare con una bellissima mostra espositiva di quadri. Il concorso fotografico internazionale di Trieste che ormai ha oltrepassato non solamente i confini nazionali ed europei, ma addirittura asiatici perché siamo arrivati a Taipei. La solita ma fondamentale operazione di pulizia dei fondali che quest'anno avrà circa un centinaio di partecipanti in acqua, perciò veramente una grandissima risposta da tutta la regione, da tutte le regioni limitrofe, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, quindi un evento che parla di mare, di cultura del mare, perché noi siamo da tanto tempo che portiamo avanti questo ragionamento, con un sogno, un sogno che è quello dello scattling, cioè l'operazione di affondamento di una nave per il ripopolamento, per creare barriere artificiali, come sono fatti da tante altre parti nel mondo direttamente. Senti, in questi anni di fondali ne avete ripuliti molti, eppure non si riesce mai a ripulirli completamente, ma quanta schifezza c'è sotto il mare? Guarda, è una cosa incredibile, uno dei temi che affrontiamo quest'anno sarà proprio l'inquinamento delle plastiche in mare. Abbiamo due grandissimi studiosi, uno è il dottor Carnimeo dell'Università di Bari, l'altro il professore Bruno Dumontè, che è il fondatore di Expedition Made, per intenderci una spedizione che gira il mare mediterraneo per raccogliere testimonianze sull'inquinamento delle plastiche in mare. Ce ne sono tante, ce n'è troppa, e gran parte di questa è colpa nostra. Un messaggio particolare lo rivolgo a chi veramente ama e vive il mare, non danneggiatelo, abbiatene cura il più possibile, perché è l'unico elemento in cui noi poi ci interfacciamo, quindi trattiamolo bene.